si sente l'audio come non si sente l'audio? no vieni su Dota ora cioè io qua sto vedendo ma non si sente l'audio no non devi vedere da OBS vai su Dota ora, ora inizia a giocare ah vero qua ora stai giocando cioè stai registrando ora parla un po' e dopo sto parla di istruzione ciao a tutti ragazzi questa è una lobby di pratica cioè perché io mi sono scaricato il programma dovevo provarlo e quindi ciao a tutti ecco ora fai stop streaming fatto?